Cos'è Sea of Tears? Sea of Tears è Microsoft, che va dal suo appassionato fan Xbox, lo prende in braccio e gli dice Ti ho dato uno sparatutto open world, allegro e frizzante, e non l'hai comprato Poi un bel multiplayer senza modalità storia, l'hai comprato, sì, ma dopo poche settimane non ci hai più giocato E poi un sanguino lento e cafonissimo simulatore di smembramenti con grafica a bomba, e non te lo sei filmato Poi uno sparatutto originale, magari un po' corto e limitato, sì, ma con diverse ore di filmati, e l'hai ignorato Poi il sequel di Beers of War, e Halo, e a momenti lasciati giù anche quelli Poi Dead Rising 4, e Ricoro Ma per quelli ti do ragione, non li ho comprati nemmeno io Detto questo, caro mio fan, vuoi avventura? Vuoi azione? Vuoi una storia? Dai, affattelo tu Questo, è Sea of Tears